Sono Andrea Marcoccia, proprietario dei Marcoccia Profumi a Fondi in provincia di Latina. Abbiamo questa realtà artigianale che è presente sul mercato da sette anni e siamo produttori e creatori di fragranze. Questa idea è nata dalla mia enorme passione per i viaggi con la filosofia di fare tutto un prodotto totalmente made in Italy. Queste profumazioni mi sono venute in mente per il mio modo di pensare la profumeria che è quello di imprimere nella memoria olfattiva, quindi di trasformare in un profumo un momento, una sensazione. Il motivo per cui i nostri prodotti si differenziano di profumi commerciali è innanzitutto la ricercatezza e la complessità di come vengono costruite le formule. Poi soprattutto dalla qualità di materie prime che vengono utilizzate, che essendo artigianali si predilige utilizzare materie prime di più alta qualità rispetto a delle molecole di sintesi più comunemente usate nella profumeria tradizionale. I componenti di ogni fragranza vengono ricercati sia sul territorio nazionale ma molto spesso anche in territorio internazionale. Basti pensare ai legni piuttosto che ai paciuli o agli incensi.